Astrologia attiva, astrologia pregressa, carta sinastrica, astrologia umanistica, astrologia prenatale, astrologia karmica, progressioni terziarie, rivoluzioni solari, rivoluzioni lunari, chirone, luna nuova, luna nera, i nodi lunari, la cintura di Kuiper, vesta, giunnone, eccetera, eccetera. Questi sono alcuni degli studi che si fanno in astrologia, assolutamente inutili dal mio punto di vista, perché quando non si ha nulla da dire bisogna cercare di ricoprirsi di terminologie, tecnicismi, per far vedere che si sa qualcosa. Parlerò più dettagliatamente dell'inutilità di alcuni aspetti, tra cui Chirone e la luna nera, cercando di far capire perché non è il caso di analizzarli. Però, per carità, i nettoniani in giro ci sono, quindi hanno bisogno di sentirsi dire nulla, di sentir parlare del nulla, altrimenti resterebbero troppo concentrati sul mondo reale che loro non amano. Detto questo, spesso e volentieri, questa pretesa di studiare l'animo umano attraverso i simboli, è una pretesa, a mio avviso, troppo eccessiva per un essere umano. Io credo che con i dodici segni zodiacali e con i dieci pianeti all'interno ci sia materiale sufficiente per poter svolgere dignitosamente una buonissima evoluzione in questa incarnazione, senza avere le pretese di redimere il male profondo che arriva dal karma. E, come dicevo, a volte sono i dettagli, sono le cose semplici, che ti aiutano a comprendere meglio come funziona un simbolo. I segni zodiacali sono un agglomerato di stelle che nel tempo sono state scelte come rappresentanti di alcuni simboli. La forma che queste stelle dà è stata identificata anticamente attraverso, appunto, non so, il leone, la forma del leone, il cancro, che è comunque un granchio, anticamente era anche un gambero. L'acquario, che è quest'uomo che versa l'acqua, ma i simboli delle stelle non sono stati uniti come, cioè i puntini delle stelle non sono stati uniti come, non so, i puntini della settimana enigmistica, no? Per farvi vedere dov'è la figura, cioè ha un senso, tutto quanto ha un senso. E oggi vorrei parlare della Vergine. C'è un dettaglio nella costellazione della Vergine che pochissimi, io non conosco nessuno che l'abbia notato, e quindi magari ve lo dico io. Però facciamo un salto indietro. La Vergine, detta Virgo, è la seconda costellazione del cielo per dimensioni. È superata soltanto dall'idra e ha le sembianze di una donna alata che stringe nella mano sinistra una spiga di grano. Ora, spesso e volentieri, la Vergine e lo Scorpione sono sempre stati associati nel culto popolare come i due segni un po' sfigati, cioè un po' portatori di tristezza, niente di più stupido. In realtà questa credenza arriva dal fatto che nel periodo dell'anno della Vergine e dello Scorpione la Terra è arida, cioè è veramente una Terra Vergine, perché Vergine è settembre e quindi quello che ha dato ha dato, e lo Scorpione è novembre, cioè la Terra è praticamente morta. Da qui si sono costruite poi anche le varie leggende su questi due segni zodiacali. Ma perché mai allora il grano, cioè perché la Vergine tiene in mano una spiga di grano se si sa che la raccolta dell'orgio e del frumento avviene nel sostitio d'estate? E qua, invece di, secondo me, andare a perdersi col karma, gli asteroidi, i sassi, i sassolini che ci sono, che girano attorno alla Terra, andate a studiarvi un po' di storia delle costellazioni, perché sono lì le risposte, non nei simboli che poi identificate voi. E qui, in questo caso, proprio la spiga di grano in mano alla Vergine ci dà la risposta. Se si considera che il simbolismo della Vergine si è formato probabilmente tra il 6540 e il 4380 a.C., cioè quando il sostizio coincideva con l'allevata eliaca della costellazione. fu quella un'epoca di profonde innovazioni, ricordiamo che la Vergine ospita Mercurio, quindi profonde innovazioni tanto da ispirare alla definizione di rivoluzione neolitica, cioè appartiene a un periodo storico. Si cominciarono a coltivare regolarmente il frumento e l'orzo, ad addomesticare le capre, le pecore, i maiali, i buoi. Si presume che fosse matriarcale, perlomeno nell'ambito del culto, delle arti, delle tecniche. C'era la grande madre che assunse tanti nomi quanti furono le sue epifanie, fino ad essere ridotta con l'avvento della cultura patriarcale a un ruolo subordinato, a quello del Dio sovrano celeste. Quindi bisogna sempre cercare di ricostruire il cielo nel momento in cui rappresenta quella costellazione, altrimenti non fa più testo. Il cielo che noi guardiamo oggi, a livello astrologico ovviamente, non a livello astronomico, sono due punti di vista diversi, perché a livello astronomico c'è un concetto eliocentrico, cioè si parte dal Sole. L'astrologo no, cioè l'astrologo guarda dal punto di vista terrestre, tra l'altro in quel determinato parallelo. E qui la Vergine non aveva queste caratteristiche così negative, ma era assolutamente una figura dominante nel mondo del femminile. La figura della Vergine risale ai Sumeri, che la chiamavano Ab Sin, che vuol dire solco, forse quello che si fa nella terra per metterci il seme. Fu identificata con varie figure mitologiche. Nella Grecia classica l'opinione prevalente è che fosse Dike, Dike con la K, Dike, che era la dea della giustizia. Esiodo la considerava figlia di Zeus e di Temi, che invece era la giustizia intesa soltanto come consuetudine, ovvero come norma invalsa. Contemporaneamente, invece, dall'altra parte del Mediterraneo, quindi in Egitto, si venerava una dea che teneva in braccio un fanciullo, ed era Iside, la sorella moglie, sì, sorella moglie, possiamo chiamarla così, di Osiride, che dopo aver ricomposto il corpo del dio straziato da set, gli aveva generato oro. Iside veniva raffigurata talvolta alata e velata. Questa è un'altra immagine che possiamo trovare anche nei tarocchi di Marsiglia, come la temperanza. Mentre nel suo capo sbocciava un loto, simbolo dell'illuminazione. Nella mano destra teneva il sistro a significare il suono, la parola, e nella sinistra un'acqua manile, diciamo che allude alla funzione di distribuzione di acqua fecondatrice per la terra. Stringeva in mano anch'essa spighe di grano, emblema del ciclo perenne di vita-morte-rinascita, e talvolta la si rappresentava con oro bambino fra le braccia, secondo un topo sfigurativo che sarebbe poi stato adottato per la Madonna cristiana, la classica Madonna col bimbo in mano. Negli Zodiaci di Dendera, a Tebe, la Vergine veniva rappresentata con ali e aveva tra le mani un oggetto simile a una cannocchia. Secondo Eratostene e a Vieno la si doveva identificare proprio come Iside, tesi che tuttavia in realtà secondo me non si concilia con la tradizione astromitologica greca e nemmeno con quella egizia, perché privilegiava Sirio come stella di Iside. Da qui in poi non fu difficile cristianizzare questo segno zodiacale, nel quale si incastronarono due importanti feste dedicate alla Madonna cristiana, quindi la Natività della Beata Vergine Maria l'8 di settembre e il Santissimo Nome della Beata Vergine Maria il 12 dello stesso mese. Una decisione direi più che giustificata, perché fin dai primi secoli cristiani avevano attribuito alla Madre di Dio molte virtù che erano appartenute alla Grande Madre, quindi alla Vergine, e avevano anche ideato l'immagine tradizionale della Madonna con il bambino in braccio, che era analoga a quella di Iside con oro neonato. Poi nel secolo XIII i filosofi di Chartres rielaborarono il concetto di natura, incarnandolo in un'allegoria che per tanti aspetti ricordava la matermania ai greci romani. Ora, bisogna cercare di capire il concetto del segno della Vergine. Parte di questo concetto, l'ho già spiegato, lo riprenderò negli episodi, però è sempre importante partire dal glifo del segno, sempre, perché è un simbolo, e il geroclifico della Vergine esprime perfettamente il simbolismo di questa sua natura alla forma di una lettera M, maiuscola, alla quale si collega un segno interpretato come una N, minuscola. In realtà la Vergine, la bilancia e lo scorpione erano un unico segno, di fatti la Vergine e lo scorpione mantengono quel simbolo della M, solo che nella Vergine finisce con un ricciolino, che rappresenta il principio femminile che, fecondato dallo spirito, genera un figlio, ovvero si tramuta nel figlio. La Vergine, quindi nel simbolo della Vergine, abbiamo tutta la storia biblica della Vergine Maria. Nello scorpione, invece, questa M si sfocia in un dardo, in una piccola freccia, che poi ci preannuncia l'entrata del sagittario, ma è una freccia che simboleggia psicologicamente l'inizio di una crescita interiore, di una maturazione intellettiva, perché, così, come nel sagittario, è un simbolo di una freccia scagliata verso l'alto, verso l'ignoto, e quindi serve un'elasticità mentale per capirla, come se fosse quasi un ribaltamento di direzione. Grazie per l'ascolto.